Nel crepuscolo che avvolge le antiche mure del castello di Rivalta, un'ombra del passato sussurra una storia che è resistito alle correnti del tempo, come un segreto ben custodito. Si narra una strana storia, intrappolata tra le pietre millenarie, il mistero del cuoco fantasma, un'entità evanescente che ha trasformato le cucine del castello in un regno di esperienze culinarie dall'aldilà. Il castello di Rivalta è un gioiello storico immerso nella splendida pianura emiliana, poco lontano dal fiume trebbia, risalente al decimo secolo e proprio per questo offre un affascinante viaggio nel tempo. Questo imponente edificio racconta le sue epoche attraverso una maestosa architettura, testimone di una lunga e ricca storia. Le massicce mura del castello, corredato da un fossato e un ponte levatoio in pietra, si ergono come guardiani del passato, rivivendo le origini militari e il ruolo strategico che ha svolto nei secoli. Al suo interno un suggestivo intreccio di stanze arredate con raffinatezza cattura l'essenza delle diverse epoche vissute. Affreschi, cammini in pietra e soffitti a volta trasportano il visitatore in un'atmosfera intrisa di storia e fascino. La vista panoramica dalla sua posizione elevata abbraccia la pittoresca campagna circostante, offrendo uno scenario mozzafiato che si intreccia con la grandezza del passato. Ma il fascino del castello non è solo quello che si può apprezzare di giorno, perché si racconta che nel cuore del castello, quando cala la notte, si muoverebbe un'ombra enigmatica e misteriosa. Un'antica leggenda narra di presenze che sfidano il tempo, avvolgendo il castello in un alone di mistero. In un'epoca lontana, quando il castello risuonava di rissate festose e banchetti sfarzosi, nella rocca viveva Giovanni, un cuoco sopraffino che regalava ai nobili proprietari e ai loro ospiti esperienze culinarie indimenticabili. Tuttavia, in quella notte fatale, l'atmosfera festosa si trasformò in uno scuro dramma. Fu probabilmente la sua eccellenza in cucina a causare il truscio assassino. Qualcuno invece sostiene che fosse stato il maggiordomo al quale Giovanni insidiava la moglie a compiere il delitto. Nessuno lo sa con certezza. Sia come sia, dopo l'ennesimo banchetto organizzato da Giovanni, il cuoco sparì e di lui non si seppe più nulla. Il corpo fu ritrovato dopo molto tempo in un pozzo e si scoprì che era stato sia strangolato che pugnalato. Ma sul colpevole non si ebbero mai evidenze. Tuttavia, il suo spirito rimase intrappolato nel castello e da allora vaga per i corridoi e le sale del maniero, una sorta di cuoco fantasma che si aggira silenziosamente tra le cuscine deserte. Nelle notti più buie si può percepire il tintinnio di utensili invisibili, il sussurro delle pentole che scorrono sui fornelli vuoti e il pestare del batticarme. L'aroma di pietanze gustose sembra leggiare nell'aria un profumo di antiche ricette che pare provenire da un mondo oltre il velo della realtà. La leggenda di Giovanni, il cuoco fantasma, si intreccia con il destino del castello, un enigma irrisolto che si trasmette di generazione in generazione. Alcuni credono che il cuoco sia in attesa di giustizia, mentre altri ritengono che il suo spirito continui a cucinare, cercando la redenzione attraverso il palato di coloro che assaporano le sue creazioni ultraterrene. Il castello di Rivalta, testimone silenzioso di segreti sepolti, ospita il richiamo di questo enigma spettrale. Le pietre che compongono le mura antiche sembrano vibrare con le storie sussurrate del cuoco scomparso e del suo destino legato al regno degli spiriti e le cucine e teatro di antiche delizie custodiscono il riflesso di un passato avvolto nell'atmosfera incantata del castello.